Ok, gente, procediamo. E mentre procediamo ho bisogno che qualcuno mi sveli questo arcano che sta bussando nel retro del mio cervello e sta veramente dando noia a tutta la gabbia cranica, mia personale. Non ho idea del perché, ma il gioco Darkest Dungeon si rifiuta di aprirsi, letteralmente non riesco a giocare al videogame, ok, non funziona, se allo stesso tempo ho aperta la cartella in cui tengo salvati i video di Darkest Dungeon. La cosa non ha senso, cioè in che modo una cartella aperta non permette a un videogame di essere lanciato, d'accordo? Adesso uno potrebbe pensare, ma no, deve essere qualcos'altro, ci devono essere, ci deve essere qualcos'altro, forse è un puro caso, no no, è proprio così. Non è la prima volta che mi capita, è tipo la quarta volta che mi succede oggi, per di più prima non lo faceva, non so perché, ha iniziato solo recentemente. E letteralmente vado a chiudere la cartella e il gioco va senza problemi. Se provo ad aprirlo, ad lanciare il videogame con la cartella aperta, non va. Ho provato a disinstallare il gioco e rilanciarlo, ho provato a non rinstallare, a uscire da Steam e riaprirlo, eccetera, eccetera. Non funziona niente, non funziona niente, devi chiudere una cartella, una cartella non permette a un videogame di funzionare correttamente. La cosa non ha senso, non ha senso in quale universo succede una cosa del genere, a quanto pare nell'universo in cui viviamo. Guardate, io non so cosa dire. Se qualcuno riesce a spiegarmelo, per favore, telefonatemi, ok? Fatemelo sapere, perché mi sta tenendo sveglio la notte questa faccenda, va bene? Sono completamente, totalmente confuso. Bel critico. Io ho bisogno di spiegazioni nella vita, ho bisogno che la gente, ho bisogno che la vita abbia un senso, ok? Ci devono essere delle regole e della logica dietro al mondo in cui viviamo, ok? Non posso vivere in un mondo senza regole. Per di più, per di più, non ho la più pallida idea di come ho fatto a scoprire che era quello che dava il problema. Cioè, nella mia testa baccata, ok? Con tutti i problemi che ho dentro alla mia mente. Perché mi è venuto da pensare, ah lo sai cosa, forse devo chiudere questa cartella. Chissà, forse adesso funziona. Deve essere tipo stato un puro caso, adesso non riesco a ricordarmelo. Però, adesso io so che è così, che funziona così. Che storia. Comunque, gente. A parte tutte queste lamentele varie ed eccetera eccetera. Se non l'avete notato, siamo su Darkest Dungeon. Stiamo facendo una missione breve. Nelle rovine. Con un'ottima squadra, non è vero. È una squadra che fa assolutamente schifo. Perché non abbiamo un healer decente. Però, dovremmo comunque essere in grado di superarla senza troppe difficoltà. E poi dipende dai punti di vista. Ci sono persone che probabilmente considerano il balestriere come uno degli healer migliori. Siccome il modo migliore per utilizzarlo ovviamente è il balestriere. Tecnicamente è curare una persona e poi farle mangiare mentre ha questo bonus in più di quanto healing riceve. Cioè io per esempio adesso dovrei far mangiare il cacciatore di teste con il nostro cibo e guarisce un sacco. Quella secondo me è una delle tecniche migliori. Abbiamo le erbe, sì. Vai. Allora. Cos'altro dire? Se ci riusciamo mi piacerebbe veramente tanto andare ad ammazzare un boss. È un booster di morale. Ok? Ti fa sentire meglio con te stesso. Ti fa sentire capace. Ti fa sentire... Perché non ho aperto questo forziere? Allora sai cosa? Tanto quasi certamente devo tornare indietro. Non apriamolo per adesso. Che forse se troviamo una stanza segreta usiamo la chiave sulla stanza segreta piuttosto. È un'idea mezza decente. Solo mezza decente. Però un tranchetti niente male. Meno 15% di stress. Non credo che lo userò praticamente mai. Però niente male. Bella trovata. Ok. Direi che a questo punto utilizzeremo la chiave sul forziere. Per di più stiamo esplorando un sacco di stanze assolutamente inutili. E non ho più abbastanza cibo. Non mi aspettavo di avere questo problema in questa missione. Speriamo che nei prossimi corridoi ci siano abbastanza eventi, abbastanza curios, abbastanza nemici. Che il gioco non ci chiede di mangiare troppo spesso. Ok. Bravo. Il ragno ha schivato però in cambio hai schivato pure tu. Quindi siamo tutti felici. Schiva di nuovo. Bravo. Mi piaci. Tu non schiverai perché sei una schiappa. Lo sapevo. E ti sei beccato un po' di stress purtroppo. Però adesso dovremmo tutti ammazzarli in un colpo e basta. Se li colpiamo ovviamente. Perché è sempre un se necessario. Tu sei nella terza posizione se non mi ricordo male. Va bene. Dai non ha un problema. È più lo stress che mi preoccupa. Lo stress è sempre una rottura di scatole enorme. Allora. A chi diamo il bonus di danno? Io direi che lo diamo al nostro crociato. Mi sembra assolutamente la scelta più banale e più facile. Sì sono tutti nelle posizioni giuste. Perché è lui che fa un sacco di danno poi contro gli scheletri ed eccetera eccetera. Rischia di saltare un turno eh. Con la sindrome da impostore. Però non è la fine del mondo. In realtà sì è la fine del mondo. È tipo uno dei quirk peggiori che puoi avere in questo videogame. Ma diciamo che non è la fine del mondo per questa missione. Finalmente un po' di scouting. E c'è proprio l'ultima stanza eh. Mi fai camminare fino all'ultimo. Speriamo che non arrivi la fame. Uh un altro bonus vai. Tutti sullo stesso. Sei diventato una bestia. Se avessi avuto dell'acqua santa anche con me. Sarebbe stato ancora meglio. Però non ce l'abbiamo purtroppo. Allora questo cibo tanto vale buttarlo via o mangiarlo al massimo. Perché tanto averne solamente due non serve a niente. Tanto vale fare spazio per altra roba se necessario. Però prima del cibo butteremo via il sangue. No non sai cosa? Probabilmente preferisco tenere una boccetta di sangue. Piuttosto che due di cibo. Però al momento non è necessario buttare via niente. Ok chi fra di voi è bravo a disarmare? Tu. Ovviamente il cacciatore di taglia è bravo a disarmare le trappole. E' a metà del suo lavoro. Ok. Va bene va bene va bene va bene. Dai abbiamo già finito la prima missione. È stata molto veloce ma lo sono sempre le missioni corte. E lo sai cosa? Chi se ne frega del danno avvicina sto balordo. Così che lo ammazziamo subito. A meno che questo qui adesso non fa una mossa per spostarsi in avanti. Però non ha importanza. È morto lo stesso. Bel 40% in più di danno mio caro. Sempre molto piacevole. Allora vediamo un po'. Fantastico. Sono di ottimo umore. Non solo per il videogame ma in generale nella vita. Mi sento positivo. Oh hai resistito all'essere spostato seriamente? Beh effettivamente c'hai un 25% di resistenza però purtroppo adesso che sei marcato ti faccio anche un 60% in più di danni e un 10% di critico in più. Cioè che roba. Effettivamente questo qui e questa qui insieme sono piuttosto forti. Gacciatore di taglie e balestriere. Perché uno marca e l'altro colpisce. È una cosa abbastanza classica. Si fanno un sacco di squadre con questo metodo. Ok allora chi c'è qua a livello 2? Nessuno? Tu. Cioè a livello 1 in realtà. Questo qua potrebbe darti un bonus. No è solo il bonus fino al campo. A volte ti danno la capacità di sapete un quirk in più positivo. Di solito legato alle rovine. Ok. Gente io direi che ci buttiamo in... Uh questo è molto comodo per te. Direi che ci buttiamo immediatamente nella prossima missione. Vediamo solo qua... Uh. Quale missione prendere. Ok allora. Addestratore. Te ne vai. E prendiamo quello a livello 1. Poi abbiamo la suara a livello 1 se non mi ricordo male. Scusa devo vedere le abilità. Sì esatto. E il giullare mi sa che anche lui è a livello 1. Esatto. E gli altri mi interessano poco però... Beh tu te ne puoi andare. Che sei super mega stressata. E prendiamo questa qua. Eh questo qua non è esattamente spettacolare però... Non è neanche detto che ti utilizziamo. Quindi tu invece sei più forte di questo quindi... Il problema si risolve da solo. 32 e basta. Lo sai che forse riusciamo ad arrivarci. Secondo me riusciamo ad arrivarci. Buttiamo via sempre... Cioè buttiamo via. Vendiamo come sempre i busti. E vendiamo... 24. E ne abbiamo 39 adesso di contratti che bastano. Che cosa mi serve per potenziare questo? Nooo non ci posso credere. Seriamente? E se lo sapevo... Proprio guardate non me lo ricordavo che mi servivano i busti per potenziare questo. E i quadri mi servono per questo. Quindi vorrei evitare di venderli. Gli scudi sono la cosa più facile da ottenere. Vale la pena vendere qualcosa in modo che... Questo qua è già attivo per la prossima settimana. Per il prossimo raduno di carne nuova da macello. Gli scudi sono la roba più facile da ottenere. Quindi direi che vendiamo quelli. Anche se però purtroppo si vendono per molto poco. Cioè tre scudi per un busto. Dio santo. Me ne servono 12 giusto? Eh sì quasi tutti devo venderli. Che f... Adesso non ho abbastanza scudi. Ma sono cretino. Ma sono completamente e totalmente ritardato. Sì. Sì lo sono. Completamente. Vendiamo... Adesso dai vendi dei busti. Per ottenere degli scudi. Mi sembra un'ottima idea. Sì fallo fallo. Geniale. Dannatamente geniale. I quadri sono ancora più rari dei busti. Però me ne servono di meno dei contratti. Quanti me ne servono? 16? No! Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non... Non... Ce la posso fare. Sono... Troppo... Troppo... Cretino. Cioè non ho abbastanza di niente adesso. Cioè... Sto buttando via le mie risorse. Abbiamo finito. Grazie. Esci da questa pagina maledetta. Ok? Non voglio parlare di quello che è appena successo. Questo non è affatto male. E questi due non sono affatto male. Stavo pensando infatti. Per il... Il veterano. Se vuoi usarlo come tank che protegge. Che ci torna utile per usarlo... Con... Contro boss come per esempio il... Il profeta. Allora questo qua mi dà anche dei contratti. Che effettivamente mi servono. Tu però mi dai dei quadri. Che mi servono anche quelli. Ok. Direi... Il problema però è che... Per andare contro... Vediamo un po' allora. Contro il principe maiale... Mi serve della gente che fa sanguinare principalmente. E... Un buon... E... Un buon guaritore. Invece per... La strega. Mi serve qualcuno che colpisca la seconda... La terza e la quarta fila. E di solito è sempre molto comodo andare con te. Che però sei al livello zero. Fammi un po' vedere. Potremmo... Sì... Ha un'idea. Ok andiamo contro il principe maiale. E facciamo... Andiamo con te come ultimo. Sarebbe un'idea. Anche perché non ho molti altri con cui far sanguinare. Non che sia essenziale far sanguinare. Però è una tecnica che funziona. Sì. Dai. Andiamo contro il principe maiale con questa squadra. Sono tutti a livello due. Tranne il... Il masochista. Allora. Nessuno di voi fa molto danno. Avete tutti il danno piuttosto basso. Conviene aumentare la vostra probabilità a questo punto di far sanguinare piuttosto. Piuttosto che darvi questo trinket. Quindi. Quindi, 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 quindi. Chi è che c'ha un bel po' di vita fra di voi? Tu hai 24 di vita nonostante abbia soft. Hai un sacco di vita. A te darti della roba che ti dà più vita non ha senso. Perché tanto sei al massimo, sei più forte quando hai poca vita. Quindi. Potrei darti questo di certo. Non c'avevo per te un trinkets che faceva sanguinare. No, ce l'avevo per il giullare. Eccolo qua. Ok. Più dodge per te è perfetto. Più precisione per te non sarebbe male. Meno stress e meno velocità non mi sembra una buona idea. Più velocità non è male come idea. Qualche velocità in più al flagellante così siamo abbastanza sicuri che riesca a far sanguinare le due file, i due all'ultima fila, al primo turno. Non è una cattiva idea. Andiamo con più velocità. C'è qualcos'altro che ti dà più di uno di velocità? Di solito i trinkets ti fanno perdere velocità, non è che te ne danno. Questa qua te ne dà più quattro, ma solo quando c'hai poca vita, il che non è esattamente utile. Sì, direi che possiamo procedere così. Secondo me questa sarà... Ah no, aspetta, c'ho ancora un buco per te. Hai un buco libero? Hai un buco libero, mio caro addestratore? Bene. Bene, 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 bene. Ti do questo. Così hai ancora più chance di schivare. E hai anche un sacco di vita in più. Hai un pochino meno di accuratezza, però questo qua ti darà un più 5, quindi sì, va bene, va bene, va bene. Allora, che abilità vi do? Tu sei già a posto. Tu sei già a posto. Tu ti studiamo. Allora, direi che facciamo uno, due... Tre e quattro. A questo punto, però, sposta questo. Dagli questo. Ecco qua. Così l'addestratore userà questa abilità per proteggere un compagno e avrà più 12, avrà 23... Scusate. Allora, facciamo così. Ha 15 di base per 100 di schivare. Avrà più 10, quando abbiamo le torce alte, ce li avremo sempre, quindi va a 25. Avrà questo più 8, quindi andrà a 33. E poi anche della vita in più. E poi ci avrà più 12 e quindi andrà a 45. Niente male, niente male davvero. Ok, sì. Direi che siamo pronti. Abbiamo perso anche già abbastanza tempo. Non dobbiamo portarci dietro tantissimo cibo. Direi che 12 basta. Ci portiamo un paio di pale. 8 torce dovrebbero bastare avanzare. Una chiave e una benda. Direi che siamo a posto. Sono molte poche risorse, ma vi posso assicurare. Lo sai cosa? Potremmo rimanere fregati. Portati indietro un po' più di roba. Perché se la mappa è a rettangolo e noi ci ritroviamo in un angolo, scusate, ci ritroviamo al centro e dobbiamo andare in uno degli angoli, può darsi che dobbiamo visitarli tutti e quattro. Quindi è un po' un rischio. Facciamo così. Giusto per andare sul sicuro. È troppa roba, però meglio che piagnucolare. I mani e i rituali di sacrificio di sangue sono difficili da master. I quei da beyond necessitano un vasso fisico. Vesel, se siano per fare la crossa in nostra realtà. Il timing delle chance è imperativo. Sembra le direttive, a intervalli precisi, il processo può farlo spettacolarmente. Una abominazione nonnamorata. Un testamento ai miei fallori. Deve essere distrutto. Allora, quasi certamente il boss è in questa stanza. Non ci sono dubbi. E la voce del narratore è tipo l'80% della bellezza di questo videogame. In mia opinione. Io adoro la voce del narratore. È una roba incredibile. È un doppiatore fantastico, io credo. Ok, allora, voi potete sanguinare tanto quanto i maiali. Probabilmente perché siete dei maiali, un pochino. E molti test, da un punto di vista medico, si fanno sui maiali. Perché hanno tipo un sacco di caratteristiche in comune con gli esseri umani. Se non lo sapevate. Per esempio anche alcuni trapianti, alcuni organi o roba del genere. Si possono utilizzare quelli di maiale. Sapete, io sono un esperto di mercati neri e di organi in vendita. E quindi cerco sempre di soddisfare al meglio la mia clientela. Solo i maiali di miglior qualità possono essere acquistati da me. Ok, allora. Tu fai sanguinare questo qua. È un bel critico perché questo qui è già morto. Tu fai sanguinare questo qua, ancora. È meglio ammazzarlo per primo. Così otterremo poco... Poco stress. Però tanto valeva dare il colpo di grazia a quello là. Vediamo se riesci a stordirmelo. Fantastico. Abbiamo un intero turno per poterci curare. E tu sei morto. Perché sanguini per 10 preciso. Quindi, divertitevi a... A curarvi, gente. Vediamo cosa riusciamo a fare. 10 meno stress a un personaggio, però più 10 a te stesso? No, grazie. Ah, tu non puoi curarti se rimani qua. Vabbè, fai lo stesso. Mettiti un po' di dodge in più che dovrebbe durare per un paio di turni. E tu guarisci un po' tutti. Ciao, ciao. Perfetto. E anche un po' di cibo. Mi dai una bella stanza segreta? No, eh. Vabbè. Allora, apri. Dopo che abbiamo sconfitto il boss, perché lo sconfiggeremo senza nessun problema e senza nessuna problematica, vediamo se esplorare un pochino di più questi fantastici... Com'è che le chiamo di solito? Catacombe? No, queste non sono catacombe. Come si possono descrivere questi affari qua? Fognature? Forse è il termine più preciso. Le fogne? Ci può stare, dai. Guardate, se volete far sanguinare, se volete togliere della vita al masochista, lo rendete solamente felice. Probabilmente sotto questo gonnellino sta nascondendo una enorme erezione, ve lo posso assicurare. Ecco, è talmente tanto distratto dal fatto che stava godendo del danno fisico che gli avete causato, che non è riuscito a prendere bene la mira. Ecco, neanche l'addestratore. No, non è vero. È perché i ragni hanno un sacco di schivata. I balordi hanno un 15% di base. Sono dei gran balordi. La stessa cosa, però, vorrei evitare che tu morissi. Quindi, verrai curato. Anche perché adesso mireranno solamente a te. E hai pochissima possibilità di resistere all'avvelenamento, quindi... Ok, grazie, Giulare. Sei l'unico che sta facendo qualcosa in tutta la squadra. In questo combattimento, per essere precisi. E continua a curarlo. Ok. Speriamo che non facciano un critico, perché sti balordi possono fare un critico di 20, a volte. Però, per favore, smettete anche di farlo avvelenare. Sta perdendo 15 di vita. Sta per perdere. Per favore, smettila di mancare... Cos'è? Hai per caso meno mira verso le bestie, te? Hai più stress in questa zona. Ogni tanto sarebbe il caso di guardare le ste cose prima di fare le missioni, però... Sapete com'è. Allora... E... Fai così? Sanguina per tre? Sì, per tre. Quindi se fai così e... Oh! Tre volte di trofila. Va bene che hai un trinkets che ti fa perdere un po' di accuratezza, ma perdi un 2% di accuratezza. Non di più. Potrebbe morire... No, ha uno di vita. Ha uno di vita. Che botta di fortuna. Ok, adesso... Tu, mio cane... Non ho vero roba per curarti. No, perché non l'ho presa su. Perché non mi aspettavo... Così tanto veleno. Non mancare. Grazie. Non è che ti sei curato di tantissimo. Però va bene così. Tu sei morto. Quindi adesso la suora ti curerà di nuovo. Ha goduto un po' troppo, eh? Questo masochista. Si è divertito un po' troppo in questo combattimento. Deve... Bisogna fare un po' di attenzione, eh? Eh, lo so, lo so, mio caro. Ok, dai. Allora, questa qui... Potrebbe avere effetti negativi, se non mi ricordo male. Sì, sì. E credo che non ci sia niente che puoi dargli perché diventino positivi gli effetti. Ma non ne sono così certo. Comunque, andiamo per di qua. Che c'è un sacco. Un sacco di patate. No. Un sacco di 500 di denari. E una bella trappola anche c'era. Che però ha fatto pochissimo danno. Solo due. Ah. Perché cerca di farti sanguinare, va bene. Ok, dai, ci siamo. Facciamo camping adesso. Ma vediamo un po'. Hmm. Più scouting non mi dispiacerebbe. No, perché la maggior parte delle nostre abilità sono basate sul togliere stress. Quindi secondo me ci conviene farlo dopo. Abbiamo abbastanza spazio dentro allo zaino per le ricompense. Quindi non abbiamo niente da temere. A parte tre maiali che ci vomiteranno addosso come se non ci fosse domani. E un vomito. E adesso arriva il secondo vomito. Eccolo qua. E dopo di questo arriverà il terzo vomito. Uh. Però ti puoi curare te, mio caro. L'ho appena visto. Nelle tue abilità, mentre stiamo facendo camping, tu hai una fantastica abilità che ti cura. Niente male. Cos'è che fa? Ma meno resistenza al sanguinamento, chi se ne frega. Devo essere sincero. Porca vacca. Oh. È impossibile colpire la gente in questo cavolo di sotterraneo. Eh, bravo. Finalmente. Tipo la... La quarta mossa... Hai dovuto fare quattro mosse per riuscire a colpire qualcuno. Qualcuno di voi muore? No, neanche lontanamente. Ok. Siccome hanno del cervello, questi balordi, stanno cercando di farmi... stressare quanto più possibile la suora. Perché non sono stupidi. A te rimane uno di vita. Tu sei morto. A te ti ammazziamo adesso tra poco. Usiamo il giul... Oh, questa è una rottura di scatole. Più tre di velocità, però. Meno accuratezza e meno critici. Ok, va bene. Vuol dire che passeremo più tempo a curare la squadra piuttosto che a farti attaccare gli avversari. Che ne dici? Ok, dai, muori? No? Facciamo così, allora? Muori adesso, probabilmente? Perfetto. Allora, andiamo contro questa fantastica bellezza. Io credo che... il maiale... abbia... uno degli aspetti, come boss, abbia uno degli aspetti più belli, questo qua. Cioè, come è disegnato, è tra quelli più interessanti, secondo me. Soprattutto questa parte del braccio mi piace sempre tanto. E il fatto che non ha gambe. Ha letteralmente l'intestina ed è appoggiato sul proprio torso. Cioè, lui non ha gambe, non ha piedi, non ha niente. È una figata. Allora, io direi che... procediamo in questa maniera. Tu baffi, così che siamo più veloci. Voi due. Tu fai sanguinare. Tu proteggi. Tu curi. Questa sarà la tecnica che seguiremo per questo combattimento. Per il momento. Siccome non devi curare nessuno, per questa volta puoi cercare di stordire. E fallire miseramente. Però valeva la pena provare. Allora, tu... Tecnicamente non puoi proteggere anche lui, perché lui attaccherà entrambi. Però aumenta comunque le tue probabilità di schivata. Al massimo uno dei due forse si salva. Ok. Quello che doveva schivare è quello che si è beccato il critico. Ancora questi due, va bene. Va bene, va bene. Qualcun altro non potevi, vero? Allora, tu ti autocuri. E lo fai sanguinare. Perfetto. E siamo già a nove. Tu, anziché baffare... Siamo già abbastanza messi bene. Infatti, c'è 95% di possibilità di colpire per te. Fai sanguinare. Che dovrebbe anche, esatto, avere anche meno resistenza. Tu assolutamente mi curi sto balordo. Tu, di nuovo, ti baffi la schivata. Passi da 48 a 59. Ok? È più probabile che ti manchi, che ti colpisca. E infatti ti ha mancato. Fantastico. Fan... Uh, perfetto. Così lui continua... Ah, ha schivato. Così questo qua adesso non può fare la sua mossa decente, ma dovrà fare una mossa del cavolo. Bene, 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 bene. Ah, per chi non lo sapesse, è essenziale in questo combattimento uccidere quello grosso prima di quello piccolo. Se inizi ad attaccare Wilbur, è la fine. Forse vi faccio vedere che cosa succede. Forse. Quando siamo un pochino più vicini alla fine del combattimento, se ci riesco. Ah, giusto, schifo. Ah no, giusto, non devi. Che cacchio faccio? Vabbè. Non so perché ancora pensavo che fossi marcato, ma no, Wilbur ti aveva mancato. Ai! Questo dovrebbe essere l'attacco debole. Questo dovrebbe essere l'attacco debole, mio caro. Ok, ce l'hai proprio con questi due. Ok, dai, il maiale è a quasi metà della vita. Tu continua a baffarti. Tu curi... Cura un po' tutti. Non c'è bisogno di curare tantissimo il giullare in questo momento, perché tanto lui attaccherà sempre quelli marcati. Per quanto stai sanguinando? Per 22! Cioè, sanguini 22 ogni singolo turno. Adesso è diventato 14. Lasciamo perdere. Però, porca vacca. Tu... Tu stai schivando poca roba, eh, mio caro. Avrei preferito che schivassi un pochino di più. Devo essere sincero. Allora, non baffiamo. Continuiamo a aggiungere del sanguinamento. Proteggi questo qua. La suora cura un po' tutti. Tu ti autocuri. Anche se di poco, probabilmente no. Perché erano già passati tre turni. Bene, 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 bene. Ok, adesso per favore. Vediamo se ce la fa. No, non riesce a schivare sto balordo, eh. Cioè, dovrebbe essere tipo una delle tue qualità migliori l'essere colpito poche volte, come per esempio questa volta. Quindi. Forse riusciamo ad ammazzarlo. Ok, basta aggiungere un pochino di danno e siamo a posto. Quindi. Guardate che cosa succede. No, aspetta, fai così. Ok. Adesso siamo sicuri che questo qua è morto. Ok, perfetto. Guardate che cosa succede se attacchi il maialino piccolo. Che lui attacca tutti e stordisce anche. e per di più non gli consuma un turno. Cioè, quella sua mossa è gratis per lui. Un po' pericoloso, eh. Cercare di ammazzare Wilbur come primo. E se riesce ad ammazzarlo va completamente fuori di testa. E vacca miseria. Un pochino più di gente stordita, per favore, la prossima volta. Eh. Non credo di aver mai visto la mia intera squadra stordita allo stesso tempo. È la prima volta. Mi è capitato in passato che Wilbur in questa posizione quando da solo mi ha ucciso un eroe. Credo, se non mi ricordo male, che c'è anche un achievement per una roba del genere. E come al mio solito non ho mangiato i biscotti per cani. Perché sono un idiota. Un'erroe. Sai cosa? Beccati più stress, chi se ne frega. Toglilo alla suora e pigliati dello stress tu. Tu ti curi con un bel critico, bravo. E tu curi un po' tutti. Eh, speravo in un critico ma fa lo stesso. E tu sei morto. Ta-da! Ed è morto anche il maialone. Io direi che esploriamo ancora un pochino. Hmm. Non ho spazio. A cosa rinuncio? Allora, potrei buttare via una torcia, assolutamente, e poi buttare via un po' di cibo. Ecco qua. Adesso ci facciamo un altro po' di spazio facendo camping e come al solito incrociando le dita che non venga un'imboscata. Utilizziamo questo. Tu potrei anche curarti, ma vediamo se ne vale la pena perché tanto sei a livello zero. Più che altro vorrei cercare di curare lei. Sarebbe carino. Non puoi curare un compagno, eh? Non puoi togliere una malattia a un compagno. Allora, cerchiamo di toglierci dello stress. Quindi, meno stress a tutti. Molto positivo. Meno stress a lui. Molto bene. Cinque, ma si dai, togli stress a lui piuttosto. E abbiamo ancora cinque moss. Cinque, cinque, cinque cose. Cinque, non lo so, tempistiche, chiamarle come vuoi. Cinque mosse. Ok, allora, a questo punto togliti la malattia. Tanto vale. E peccato che tu non ce l'avevi l'abilità. Qual è? Questa? Sì, questa qua. Che previene le imboscate. Abbiamo qualcosa che costa tre. Sì, questo, che non è per niente male. Ma, secondo me, conviene fare questo piuttosto. Però non ho nessuno di religioso, mi sa. Facciamo così. Aggiungi questo al giullare. E adesso dormiamo. Ok, dai, esploriamo ancora un po'. Godiamocela. E soprattutto, cosa più importante, usa questi cavoli di biscotti che mi dimentico sempre, perché sono un cretino. Perché sono un completo cretino. E guarda, mangiali, mangiali, subito, immediatamente. perfetto. Due nemici sono morti. Riusciamo ad ammazzare anche l'ultimo? Sì, è morto. No, perché sanguina per uno. Vai tu per primo? Perfetto. Adesso è morto. Fantastico. Eccoci qua. Vai. Quattro scudi in più. Già valeva la pena solamente per quello. Solo per quello già valeva la pena. Allora, mi piacerebbe ammazzare il maiale che vomita, ma non possiamo colpirlo col giullare, però possiamo colpirlo con questi due. E anche con te. Se ce la fai e ce la fai alla grande. Vai. Dai, 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 che ce la facciamo ad ammazzarlo prima che ci stressi. No. No, non ce l'abbiamo fatta. Almeno grande, stavo dicendo, almeno cerca di non farti ammalare. 5-5. Ok. Allora, stai sanguinando per 3. Questo qua può fare da 2 a 3. Vuol dire che può farti 4 e un sanguinamento da 2, da 1. No, conviene fare così e ammazzarti e basta. Troppa matematica. Troppo difficile fare i conti. Ok. Va bene, dai. Ah, cavoli. Vabbè. Allora, tu sei il prossimo perché sei un altro che può stressare e dovresti essere morto. Bene. Poi. Toglio un po' di stress. Dai, cerchiamo di mandarli a casa sereni, felici. Non voglio che questo sia un luogo di lavoro stressante. Una cooperativa positiva noi siamo, gente. dai. Non c'è tossicità in questo gruppo di dipendenti. Siamo tutti amici. Questo weekend andiamo con le famiglie al al barbecue aziendale. chi porta le salsicce? Chi porta la birra? Chi porta il pane? Io porto le posate. Piatti e posati di plastica li porto io. La plastica riciclabile, mi raccomando, quella che non va buttata nel nero. Questa qua si può buttare addirittura nell'organico. che siamo gente positiva noi. Allora, tu mi togli quel poco di stress che rimane a sto balordo. Tu mi curi un po' tutti con ben due critici. Wow. E tu me lo finisci. Perfetto. Non ci avevo neanche pensato ma lui fa più danno contro gli animali. Allora, questo diventa positivo al 100% se ci avessimo dell'acqua santa. Non ce l'abbiamo quindi non lo tocchiamo. Ah, dammi solo un'occhiata un po' veloce scusami qua. Ok, non c'è niente. Direi che cerchiamo almeno di raggiungere questa stanza col tesoro. Bella schivata, bravo. Ok. C'è un combattimento per favore? Vorrei ottenere quanto più tesoro possibile. No, eh? Ah, bene, bene, bene. Datemi dei combattimenti. Datemi tanti bei combattimenti. Datemi tante belle casse vuote. Quattro ragni, ok. Speriamo che vada meglio del combattimento con gli altri quattro ragni perché si era rilevato un po' difficilotto il primo. Un altro fantastico critico. Un altro fantastico critico da parte nostra. Tu, perfetto, volevo esattamente che tu andassi prima degli altri perché così me ne ammazzi di certo uno e anche questo è morto e questo gli rimane uno di vita e basta. E indovina un po' uno di vita non ti basta, sei morto. Che goduria riuscirà ad ammazzare tre nemici al primo turno. Dovevate... Dovevi proprio farlo, eh? Dovevi proprio farlo, eh? Tu me la stressi e io le tolgo lo stress. Vai. Ok. Continuiamo la nostra esplorazione. Direi che andiamo... Ma sai cosa? Continuiamo, continuiamo ad esplorare tutto. Più roba ci portiamo a casa meglio, eh? Tanto non abbiamo mica fretta. La prima missione è stata stra-mega veloce e anche questa seconda non è che ci ha occupato un sacco di tempo. quindi... Eh, però qua c'è un sacco di stress. Uh, però sono entrambi sorpresi. Sono tutti sorpresi, non entrambi. Sono in quattro sono sorpresi. Vediamo un po' se ce la facciamo. Tu fai... Ah, cavoli. Troppo dodge. 20 è veramente tanto. Ok, tu... Tu non sei morto, però... Ah, cavoli. Che peccato. Vabbè. Succede, gente. Cosa ci vuoi fare? Un po' di stress. Per i nostri poveri e poveri eroi. A meno che entrambi mancano. Uno... Uno può sempre sperare. Allora, il maialino vomitante dovrebbe essere morto. Esatto. Aia. Tu probabilmente riuscirai a fare almeno un'altra mossa perché adesso andrai per primo. O almeno andrai prima dei miei. ecco ti qua, infatti. E fai un'altra accusazione contro un giullare. Però il giullare sa di essere innocente e dice tu mi vuoi accusare ma io ho le prove fisiche della mia innocenza e sei rimasto fregato. Tu sei morto. Tu non sei morto. Tu sei morto. Rimane solamente questo brutto balordo grosso facocero. Va bene, dai. Abbiamo qualche turno per curarci e toglierci lo stress. Sperando che questo balordo non faccia altri critici. Direi che cerchiamo di curare il giullare per adesso. Con un po' di musichetta. Tutti sanno che la musica aiuta. È una vera e propria medicina. Anche i critici sono una vera e propria medicina. Nice. Ok. Bene, 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 bene. Tu inizi ad essere un po' troppo stressato ma va bene così. Quanto te ne rimane? Altri tre, giusto? Ok. Tu sei morto. Sei ufficialmente un cadavere, te. E tu sei ufficialmente suonato. non in modo negativo, eh. Nel senso che ti ho fatto una suonata. Ti ho fatto una serenata. Sei felice? Ok. Cosa buttiamo via? Vorrei esplorare anche le altre stanze se ci riusciamo. questi trinkets fanno abbastanza schifo. Se ne vanno. Ecco qua. Questo questo funzionava con le torce. no. Perché per qualche motivo pensavo che funzionasse con le torce. Questo qua sono abbastanza sicuro che possa togliere. Ah no! La cos'è che funzionava con la torcia? Porca vacca. Non mi ricordo. non ho più pala idea di quello che sto pensando o quello che sto dicendo. Allora. E tu fai da 3 a 6 di danno tu fai da 5 a 8. Ok. Tu, mio caro, ti bevi questo fantastico intruglio alcolico e mi fai 30% in più di danno per il resto della missione. Niente male. Ok. Niente combattimenti. C'è un curios qua. Questo qua mi servirebbe dell'acqua santa. rischia. Ah, porca vacca. Malattia? Malattia. Cos'è? Meno danno, giusto? Sì. E anche parecchio meno danno, cavoli. Vabbè, vabbè, vabbè. Fa lo stesso. Anzi, tecnicamente guarda, meglio così. Cioè, non meglio così. Ma bene che ho provato a prenderlo con lui perché tanto è quello che uno si può curare da solo e due è comunque quello che probabilmente manderemo via perché è a livello 0. Ok. Abbiamo quasi finito anche questa missione l'abbiamo fatta molto più lunga di quello che doveva essere ma comunque soddisfatto al massimo. fai così questo qua è morto e tu cerca di colpirmi il maiale con il volto di una persona sul torace. potrete smetterla di stressarmi la mia povera suora porca vacca bene ok niente più stress curiamo lo stress che abbiamo accumulato 13 c'è ah perché avevi fatto un critico prima probabilmente era per quello ok che ore sono perfetto un orario assolutamente decente rientro nei miei nei miei impegni così che riesco a gestire alla perfezione il giusto equilibrio tra lavoro e ludicità allora continua a distressare la donna con la mazza e la bibbia lei guarda ci pensa anche da sola un pochino perché è molto molto intelligente come signora è molto in gamba è rispettata in tutto il convento lei è la persona più rispettata di tutto il convento lei è la madre superiore ok scusate allora distressati te stesso e poi mi sa che tu sei morto questo turno ciao ciao ok se cosa voilà ok direi ultima stanza ultimo corridoio forse ultimi due corridoi vediamo se fare anche questo corridoio lo sai cosa sei già malato vai cosa sei bloodthirsty pensavo che lo fossi già dal momento che sei un sadico che si tira delle mazzate da solo sulla schiena e fare questo in qualche modo fa sanguinare gli avversari la cosa non ha alcun senso però è così che funzionano i tuoi attacchi ecco un po' di stress proprio poco prima che dobbiamo andarcene meno male meno male che c'è questo combattimento così posso togliere un po' di stress al giullare è arrivato giusto in tempo questo combattimento fantastico guarda tu non attacchi tu pensa a suonare pensa a fare un bel concerto certo ammazzate i balordi che ci fanno che ci danno stress ecco qua perfetto ora tu per favore non farmi un critico e siamo a posto allora non credo che questo ragno mi dia nessun genere di ricompensa però chi lo sa prova comunque a spegnere tutte le torce a vedere cosa succede ah no visto qualcosina mi ha dato meglio di così ok si andiamo e signori signori il principe maiale è morto e abbiamo un fantastico trinket abbiamo no perché ti sei abbalata anche ah no eri già ammalata giusto è vero sto dicendo pensavo che ecco è 15% in più di resistenza alle malattie forse era il caso di avercelo prima quando la malattia l'hai presa non serve a niente averlo quando una volta sei già ammalata comunque basta lamentarsi la missione è andata che è una meraviglia potremmo andare a fare questa potremmo andare a uccidere la sirena sì è un'idea è un'idea visto che abbiamo fatto benissimo a prenderlo perché adesso abbiamo uno addirittura a livello con tutte le abilità a livello 3 e anche con la sua mazza e la sua divisa il veterano è appena diventato il nostro personaggio più forte di tutti voilà e anche la collezionista perfetto e intanto che ci siamo tu mio caro te ne puoi andare aspetta no non te tu e sì cambiamo vai via che c'hai una tosse che fa schifo ok tu sei a livello 2 quindi non ha senso cambiarti tu potresti essere cambiato anche perché c'hai la sindrome da impostore sì tu te ne vai ok allora suora suora e si suora che cavoli dico sirena sirena porca miseria quanto costa sta roba però dobbiamo farlo allora settimana 26 dai siamo in giuste tempistiche e soprattutto c'è morta poca gente solamente 2 su 16 dai sta andando sta andando abbastanza bene perché dopo tutto dopo tutto gente questo è un gioco facile ok la cosa difficile in questo videogame non è tanto il gioco di per sé è il non ragequittare quella è la parte difficile di questo videogame allora sì andiamo a uccidere la sirena e non chiedetemi perché ma la mia esperienza mi ha insegnato che lei tende a cercare di attrarre sempre l'abominevole non so perché ma la mia esperienza mi ha insegnato che la maggior parte delle volte lei va sempre per l'abominevole quindi io me ne porto sempre uno che praticamente fa da esca per la sua per la sua abilità poi così e poi cosa mi sa e noi andiamo così gente così tu giullare curi un po' lo stress che c'ha questo poveretto che è un pochino stressato c'ha già 51 di stress tu farai danno tu curi tu sei abbastanza utile anche se sei a livello 0 cioè a livello 1 tutte le tue abilità e anche le tue armi ed eccetera eccetera tu sarai molto comodo per avvelenare quando ci sono i pesci normali e poi farai da esca per per la bestia quando sarà il momento allora io voglio che tu hai più accuratezza più 8 oppure questo ok facciamo così siccome tu fai da esca ah però cavoli a te vorrei anche dare del danno in più non sarebbe male lo sai cosa fai già abbastanza danno è meglio che tu abbia più mira no è una cretinata dagli del danno in più a te invece darò la possibilità di schivare e forse anche un po' più di vita che ne hai già tanta quanta vita hai te 26 si dai ha più o meno senso dartela a meno che non hai qualcos'altro che aumenta la schivata ma non mi sembra il caso ok a te diamo più mira non ha senso darti da fare per sanguinare di più perché tanto i pesci non sanguinano le loro scaglie sono troppo resistenti però potrei darti anche questo per più danno eh ma poi c'hai troppa poca mira più danno e più accuratezza ma non ha senso perché tanto a te come giullare ti uso per baffare gli altri o per curare lo stress quindi non ho bisogno che tu abbia più accuratezza sai cosa facciamo così e a te do meno stress e più vita e più velocità forse no no più vita va bene dare a te uno di questi forse così avveleni no no non stiamo a pensarci troppo va bene così va bene così dai ci metteremo non facciamo tantissimo danno però facciamo il giusto mi rompe le scatole che tu sei malata ma che cosa ci puoi fare ok va bene va bene va bene va bene va bene va bene procediamo gente in questo video vi beccate ben due discorsi del dell'antenato siete felici siete allegri di ciò statelo bene ad ascoltare perché dice delle gran figate mi lofti posizione non sempre accompagnata con la fear di office e c'era un momento quando potele le strati o raise un glass in una avre senza concern per mobile station stavo stavo pensando che effettivamente avendo stra mega abbassato il volume e forse si sente assolutamente da schifo comunque la sirena sarà in una di queste due stanze e diamo giusto un'occhiata veloce ok qua non c'è niente quindi possiamo già procedere nell'altra direzione lo sai cosa già mi ci metto così già so che quel quadratino l'ho già esplorato gente come al solito statemi bene vi voglio bene ci vediamo alla prossima ciao ciao